Con l'inizio del nuovo anno il Governo regionale fissa gli obiettivi. Fra questi principale attenzione merita la competitività delle imprese siciliane e di conseguenza la formazione dei lavoratori. Sono pronti 5 milioni di euro per riqualificare e specializzare i lavoratori, favorendo così il rilancio delle imprese siciliane. E a proporre e tenere i corsi, oltre agli enti di formazione e alle università, potranno essere anche le imprese stesse. L'ho annunciato l'assessore regionale alla formazione e all'istruzione Mimmo Turano. Il finanziamento sarà diviso fra i progetti formativi aziendali per 2 milioni di euro, progetti formativi multiaziendali 2,5 milioni e progetti formativi di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione a composizione mista 500 mila euro. Possono presentare le proposte formative imprese con sede legale e almeno una sede operativa in Sicilia, enti di formazione, università statali e non, a esclusione di quelle telematiche e fondazioni degli istituti tecnici superiori, tutti sempre con sede operativa in Sicilia. Le attività formative saranno rivolte a lavoratrici e lavoratori occupati, sia dipendenti che autonomi, con determinate caratteristiche spiegate nell'avviso consultabile sul sito del Dipartimento della Formazione Professionale. È un'occasione, conclude Turano, offerta al tessuto produttivo siciliano per ripartire dopo anni difficili più forte e moderno di prima, grazie alla sinergia col mondo della formazione.